Benvenuti a Vivi Giappone, guardate che abbiamo là, guardate che abbiamo qua, dove stiamo? Flavio, sei a casa tua praticamente. Siete da me, io ho allestito questo salone, guardate non c'era proprio niente da fare. Questo è il tuo hangar, tutte le macchine, aperte tutto. Però questa qua è una minima esposizione. Esatto, perché solo quella Nissan. Perché siamo in verità al Nissan Gallery del Nissan Global Air Quarter di Minato Mirai a Yokohama. Molto bello, per fare questa puntata un po' filler. Sì, giusto per far vedere quelle chicche nascoste. Quindi può parte una bella canzoncina come faccio io e vi facete tutte queste belle Nissan, tra cui questa Formula E che merita parecchio. C'è il dischetto figo, guardatela. Ah, dove, dove? Con la testa è filata. Ah, sì, ora vediamo tutto, ci saliamo, no? Quindi troppo no. Quindi è una puntata rilassante, accendete, sentite la canzone, godetevi le immagini e vediamo che succede. Grazie. 3 7 8 2 6 7 Grazie a tutti. 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 Davide di Giappone è tutto, che bisogna fare? Commentate, scrivete, condividete, compratevi tutto, comprate i gadget di Davide, non c'è il gadget di Davide. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.